Cosa mangia in un giorno Colazione da McDonald dove ho preso un ginseng Questo muffin al cioccolato buonissimo Perlomeno io e Selvi ci siamo sempre trovate molto bene a fare colazione ogni tanto da Mac Fanno dei menu, delle combo molto molto buone E spremuta d'arancio fresca fatta lì davanti con le arance super super freschissime di giornata Colazione mi avete visto farla da Mac con mia sorella A pranzo invece ero da Burger King Io ho fidanzato Una giornata è stata mix dove ho visto mille persone Comunque per pranzo strano ma vero Ho preso l'insalata che non ho mai preso ai fast food Era un modo anche per assaggiarla per la prima volta Con patatine fritte, acqua, un pasto molto semplice Prenda non la vedete perché non l'ho fatta Che poi è un pasto molto semplice Solo l'insalata perché le patatine fritte erano belle strong Super untuose quanto basta Buonissime Per cena mia mamma qui stava organizzando i salti in bocca alla romana Che ve lo dico a fare ragazzi C'è un bel salti in bocca gigante alla romana Quanto sono buoni Con friarielli vicini ripassati in padella Un pasto veramente anche qui super top Pasta e cena un bel finocchio Tisana Molto molto buono come sempre E ragazzi miei con questo è veramente tutto Ci vediamo venerdì 14.30 Con nuovi sul canale Un bacione gigantesco E a venerdì Ciao Ciao